Ciao raga, bentrovati sul mio canale youtube, no non mi sono fatto pelato, ho rasato un po' i capelli aiati ma è la luce che fa questo effetto Oggi continuiamo la nostra tabella di avvicinamento ai tots della community andando ad analizzare gli esterni che al momento secondo me sono i più validi Ritengo gli esterni che sono più validi al momento per me, quindi se qualcuno manca non disperatevi, ditemelo nei commenti, ne parliamo eccetera eccetera, argomentiamo Se avessi dovuto mettere qualsiasi giocatore umano buono da utilizzare sarebbe venuto un video di un'ora, quindi premessone come al solito Senza perdere ulterior tempo, passiamo subito sulla schermata e qui vi dico che ho fatto fatica perché molti giocatori poi li ritroveremo probabilmente anche negli attaccanti Sto un attimino ancora definendo la situazione lì davanti perché c'è un po' di ambiguità Comunque passiamo subito a vedere quella che è la prima carta che ci attende Per quanto riguarda gli esterni, ovvero Manet candidato Toti Manet candidato Toti, una carta veramente veramente clamorosa 1,75m, alto normale, 4-4 Un giocatore che insomma non ha bisogno di presentazioni in quanto una freccia lì sull'out di sinistra Ha anche un ottimo tiro per quanto riguarda sia la finalizzazione e la potenza Ha un buon passaggio corto con un lungo che è accettabile Ha ottimi parametri di agilità con 96 di agilità, 89 di equilibrio, 96 di reattività, 92 controllo palla, 87 di freddezza E ha 75 di forza che vi assicuro non incide per quanto riguarda il discorso appesantimento Questo qui sparato in fascia vola che è una meraviglia Soprattutto è molto 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 utile nell'andare a utilizzare lo speed boost Quello con l'L1 che trovate qui sul canale nella sezione tutorial Veramente prende una velocità allucinante e sguscia che è una meraviglia Quindi lui promossissimo ed è uno dei miei preferiti Non solo in Premier League ma proprio a 360 gradi L'anno scorso col Toz ci ho campato praticamente tutto l'anno A fargli compagnia sempre sull'out di sinistra Visto che insomma abbiamo visto che nel corso del tempo A sinistra ne sono usciti di esterni mentre a destra siamo un po' più carenti Abbiamo Marcus Rashford Nella sua versione 89, 1,86 m, alto normale, 5 di skill e 4 di piede debole Anche lui un giocatore molto veloce con un ottimo tiro Un buon passaggio corto e un lungo accettabile 90 di agilità, 90 di reattività, 79 di equilibrio E questo un po' incide Perché anche 82 di forza è un giocatore che rispetto a Manet ha molti centimetri in più Quindi palla al piede, nei micromovimenti non è così irresponsivo Però messo in fascia con la quinta skill che vi permette di poter fare la suola E lo scupturno, la combo Vi permette di poter fare dei buoni tunnel, dei buoni bridge Per me lavora, che è una meraviglia questo Marcus Rashford Io anche l'ho utilizzato fino a quando poi non ho messo per questione di intesa una carta che troveremo più avanti Super super promosso, sia a sinistra che a destra può tranquillamente essere adattato anche a sette di intesa A destra una carta che probabilmente è un po' sottovalutata perché all'inizio costava tanto Adesso visto che siamo nel periodo Tots è un po' in discesa sotto questo punto di vista a livello di prezzo E magari ve ne state un po' accorgendo di questo Saka Alto normale 1.78, 4.4 Una freccia Un buon tiro Degli ottimi passaggi a passaggi superiori rispetto a quanto abbiamo visto fino ad ora con Manet e Rashford 89 96 di agilità, 95 di equilibrio, 88 reattività, 90 controllo palla, 90 freddezza, 75 di forza Che quindi non è un parametro che lo vada a pesantire Questo qua è veramente un bel giocatorino perché permette sia di prendere velocità con lo speed boost con l'L1 Permette di poter scaricare bene il pallone Qualora si deve ritrovare a finalizzare all'interno dell'area probabilmente con viste le statistiche di tiro lo fa Io lo giocherei a destra a premessa che gli esterni io li gioco sul loro piede forte Perché è molto più facile che capiti un tiro ad incrociare quest'anno rispetto a un tiro a giro come poteva essere gli anni passati Per quanto riguarda un esterno Quindi andrei a utilizzare questo Saka lì proprio a destra Può giocare sia in un 4-4-2, in un 4-2-3-1 così come i suoi predecessori Ed è veramente un bel giocatore Molto sottovalutato, vi dico provatelo se vi serve un esterno in destro in Premier League di ruolo Per me non ce n'è, Saka è il migliore Kent non è in Premier League però diciamo per la sua ibridabilità lo si va un po' a inserire in questo contesto Ed è il solito Kent, insomma non è che lo scopriamo di certo oggi 1-72 alto normale, 5-5 rilasciato da poco, una freccia Latita un po' per quanto riguarda la potenza tiro Questo potrebbe essere un fattore all'interno dell'area di rigore Potrebbe cagarsi qualche gol di troppo visto che anche l'87 di finalizzazione non è un parametro così wow Passaggi che sono discreti, sia il corto che il lungo devo dire, non male 97 di agilità, 98 di equilibrio, 76 di reattività e 71 forza, parliamone Perché il 98 di equilibrio e il 97 di agilità sono tanta roba Ma quel 76 di reattività lo rende un pelino inferiore rispetto ai giocatori che abbiamo visto in precedenza Nonostante sia anche un piccolo folletto Perché la reattività è proprio quel parametro che insomma palla al piede ti permette di poter essere rapido quando cambi direzione Quindi peccato per quel 76 di reattività, freddezza 82 siamo un attimino al limite Però insomma parliamo di un giocatore sicuramente molto interessante lì da piazzare sia sull'out di destra che di sinistra Visto il 5 piede debole, col 5 di skill vi permette di poter fare la suola più il bon roll Quindi tanta fantasia al vostro servizio E insomma una carta molto molto comoda che vi permette anche di ibridare che so taverniesi, ibrida con walker Quindi un bel 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 giocatore Così come un bel giocatore è questo Sterling Sterling nella sua versione foot birthday 92 di overall, 1,70m alto normale, 5-4 Sterling in particolare è uno di quei giocatori un po' alla Robin che ha il suo stile di corsa personalizzato Già questo per me fa gasare quindi non ce n'è Già parte un passo avanti rispetto a tutti gli giocatori di questo elenco Ovviamente una freccia, ha un ottimo tiro, un ottimo passaggio corto e lungo un po' così Molto agile, buon equilibrio, buona reattività, controllo palla, statistiche di dribbling tutte quante al suo posto 71 di forza non la pesantisce perché un giocatore di 1,70 la paperella Sterling è veramente molto sgusciante Questo potrebbe essere anche utilizzato in un'attacca 2, volendo Però lì insomma come esterno fa il suo perché il suo body type gli permette di prendere benissimo velocità con l1 più corsa E quindi io lo gradisco, certo costa tanto però il suo sicuramente lo fa Magari anche se ve lo siete ritrovato tra le mani non scambiabile o se vi serve per questioni di intesa So Sterling il suo veramente lo fa alla grandissima Così come il suo lo fa Mbappé Insomma vi ho piazzato la carta più basica però fondamentalmente il discorso vale per tutte le altre versioni Il Tod, il Pot, il Rule Breaker, il Record Breaker eccetera eccetera 5-4, velocissimo, ottima finalizzazione, passaggi un po' eh Però unico punto dato lente perché poi è agile, è reattivo, ha un ottimo controllo palla Ha una buona forza che però non lo appesantisce perché Mbappé lo sapete tutti Insomma è il giocatore che è, fa dei buoni tunnel con L1 e R1 Si speedboost bene, è veramente una carta completa che può fare sia la punta che l'esterno Perché la domanda solitamente è chi metto punta tra Mbappé e Neymar Junior? Io faccio un duplice ragionamento Cosa dico? Entrambi i giocatori possono fare entrambe le cose Ok? Sia Neymar che Mbappé possono fare sia la punta che l'esterno Se c'è un ballottaggio tra i due Qualora stiamo parlando di versioni base Io vi dico allora piazzate Neymar da punta Se invece parliamo di una versione speciale di Mbappé Mi sono frizzato la cam Aspettate un secondo momento bloopers Che lo risolvo proprio in maniera molto fast volante In maniera tale che non devo andare a fare troppi sconvolgimenti Nell'editing del video Visto che sto portando avanti tutta la programmazione Avanti Visto che sarò a Milano Settimana prossima Mentre voi state vedendo tutti questi video Come vi ho detto Eccomi a breve che ricompaio il bello della diretta Eccoci qua Dicevo entrambi possono fare le stesse cose Sia la punta che l'esterno Però se parliamo di versioni base Io preferisco Neymar perché è un filo più agile e a 5 di debole Se invece parliamo di una versione speciale di Mbappé Io andrei a utilizzare onestamente il buon Mbappé Perché finalizza molto meglio rispetto a Neymar Che invece ha dei passaggi molto superiori al suo collega E quindi rende meglio sulla fascia Quindi versioni speciali di Mbappé da punta Il base rispetto a Neymar lo piazzerei più sull'out Quindi da esterno sotto questo punto di vista Andiamo avanti e troviamo un'altra bella hidden gem Per quanto riguarda la Ligan Ovvero il buon di Atta Questo qui è veramente un giocatore sorprendente Sorprendente è proprio il termine esatto Perché è un 4-4 e 1-75 Ha preso l'upgrade Va sicuro e una freccia raga Piotta su quella fascia che è una goduria È velocissimo Ha un buon tiro Ha dei buoni passaggi È una furia Palla al piede Si gira e si rigira su se stesso È molto molto forte Non costa neanche tanto Vi dà la possibilità di poter linkare i vari Renato Eccetera eccetera Insomma vi sblocca delle situazioni interessanti Se magari avete un terzino Icon Quindi non sottovalutate di Atta Che secondo me merita tutti gli onori del caso Perché è veramente un bel esterno Così come un bel esterno sto Simon Simon che ha anche 5 di piede debole Rispetto al suo predecessore 1,68 Ha un body type un po' strano Che è un po' stock Un po' cicciottello Appesantito anche dal 77 di forza Però parliamo fondamentalmente ancora di un giocatore Assolutamente utilizzabile lì a sinistra Qualora magari si hanno un bappenne mar da punta E bisogno di un esterno di Ligan Simon il suo lo fa Ha un buon tiro È velocissimo Passaggi sono l'unica cosa un po' da rivedere per un esterno Peccato la reattività a 75 Vi assicuro che quel 99 di agilità E quel 99 di equilibrio Sono un po' fake Perché vi ripeto Il body type incide Come avevo spiegato tante volte Sull'effettiva vericità delle stats E quel 99 non lo sentite Però comunque è un folletto Visto che è 1,68 Passiamo adesso al campionato nostrano Campionato nostrano Che anche qui insomma È bello ricco Bello carico di esterni Il primo che vi vado a indicare Non perché sia effettivamente il migliore Ma perché ve l'ho messo per primo È lo Zano Nella sua versione headliner 4-3 Nota dolente Questo treppiede debole Che insomma Me lo farà poi scivolare Nelle mie preferenze In coda Rispetto a un altro giocatore Che vedremo a breve Ovviamente è velocissimo Ha un ottimo tiro Ha un buon passaggio corto Con un lungo un po' così così Molto agile raga Questo sì che è agile Il 99 Lì lo sentite Perché poi ha anche 87 di reattività Un ottimo controllo pala Dribbling eccetera eccetera Lo Zano lì sull'auto di destra È uno degli esterni migliori In serie A sicuramente Però il numero uno Per me è Kuluseski Kuluseski che è 1.86 Ha 4-4 Si speedboosta raga Che è un amore Un amore vi assicuro Rispetto a Lo Zano Con l'L1 Vola Lascia 100 metri all'avversario Quando parte Ha un buon tiro Ovviamente veloce Ha degli ottimi passaggi E anche discretamente agile Ovviamente non come Lo Zano Però per la sua stazza Soprattutto se magari Piazzate un bel motore Il suo rendimento Lo andate ad apprezzare Ed è sicuramente Uno dei migliori esterni Che sto tuttora utilizzando Vi ripeto Ho sostituito proprio Proprio Rashford Con Kuluseski Perché mi serveva Il legame Con Cristiano Ronaldo Un'altra carta Molto sorprendente E questo Sané Perché ha Un giocatore Da 1,83m Con 4 di skill E 5 di debole Con un body type Tra virgolette Ronaldesco Ovviamente Cede qualche In centimetro Rispetto a Ronaldo Però ha dei movimenti Molto ampi E molto veloce Ha un ottimo tiro Ha un buon passaggio corto Lungo un po' così E' molto agile A dispetto dell'altezza Del 75 di forza E prende un sacco di campo Con quelli che sono Speedboost Tunnel direzionale O brigio vari Inoltre finalizza molto bene Quindi se vi serve Un esterno in Bundesliga Visto che insomma C'è un po' di carenza Lui è sicuramente Uno dei più utilizzabili Ed è uno di quelli Che preferisco E mi fa veramente Godere Quando lo provo Magari in draft Eccetera eccetera Me lo sono ritrovato contro Invece mi ha fatto piagne Quindi Molto bene Le Roi Sané Molto molto Positivo Così come In liga Abbiamo sto Inaki Williams Inaki Williams Come vi ho detto Anche nel video Dei footbird È un bel esterno Perché Ha 1.86 Quindi corpo Un po' alla Kulusevski 5 di skill E 4 di debole Quindi suola più Borroll sbloccato Vola Velocissimo Ha un ottimo tiro Ha un buon passaggio corto E lungo Come al solito Un po' così Peccato per quell'equilibrio Però è alto Quindi diciamo Che a livello di agilità Siamo messi un po' alla Kulusevski Appesantito Da quell'89 Di forza Però se deve essere messo in fascia Lì a galoppare Piottare In una liga Lui secondo me È uno dei migliori Ok Il suo lo fa Non lo utilizzerei da punta Proprio per quel body type E quell'89 di forza Che lo rendono un po' più Statico Però l'esterno Lo fa veramente benone Così come l'esterno Lo fa benone Anche questo Dembélé Secondo me Più del freeze Che bene o male Dovrebbe costare qualcosina in più Quindi qualità Prezzo Vi indico questo Perché A 5.5 Ha una discreta finalizzazione Con una buona potenza tiro Passaggi Così e così Il corto K Lungo al limite È agile Molto molto agile Ed è un 5.5 Quindi se vi devo indicare Qualcuno della liga Vi indico sicuramente Dembélé da un lato E Inaki Williams dall'altro Sono i due Che secondo me Rendono al meglio È come non potervi indicare Questo Neres Che ha preso anche l'upgrade Ragazzi È veramente un bel giocatorino Veramente un bel giocatorino Da esterno Prende un sacco di campo Palla al piede Cede magari il passo Quando deve andare nello stretto Perché non so L'ho trovato un po' goffo Sotto questo punto di vista Però per quello che costava Questo veramente Qualità prezzo Probabilmente uno dei migliori All'interno di questa categoria C'è una faccia un po' modificata È all'interno di questa carta Però Neres È un ottimo Ottimo esterno Che Visto anche il 5 di skill E il 4 di piede debole Lavora Che è una meraviglia Gran passaggi Agilissimo Se non fosse appunto Per quel 78 di forza Unito al 1,76 Che forse appunto Lo va un po' a goffire Unito al body type Però parliamo sicuramente Di un bel giocatore Quindi boys Per quanto riguarda Questa panoramica Sui Sui esterni Pre-tots Secondo me Più utilizzabili Abbiamo terminato Vi ricordo nei commenti Di dirvi in maniera Costruttiva Se c'è qualcuno Che voi Ritenete superiori A quelli che vi ho indicato Io sicuramente Magari ho dimenticato qualcuno Fatemelo sapere Un bel like Vi ricordo In descrizione Tutte le info Per le live giornaliere Sulla piattaforma Viola A me non resta altro Che salutarvi Augurarvi una buona giornata Un salutone al vostro Liberoschi Ciao Ciao ciao